Negli uffici dell'Urega erano come fantasmi perché timbravano ed uscivano fuori. Da qui l'operazione GOS della Guardia di Finanza conclusa con un'ordinanza di misure cautelari con cui si dispone la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio da sei mesi a un anno nei confronti di dieci funzionari dell'ufficio regionale Gare di Appalto Servizio Territoriale di Caltanissetta. L'attività d'indagine coordinata dalla Procura condotta mediante dedicati servizi di appostamento e pedinamento e suffragata da riprese videofotografiche e riscontri documentali ha consentito di contestare a carico dei suddetti funzionari l'ipotesi di truffa gravata e di false attestazioni o certificazioni relativamente alle presenze in servizio reato quest'ultimo previsto dal testo unico sul pubblico impiego. E' stato rilevato che gli indagati dopo aver timbrato o aver fatto timbrare il budget a colleghi compiacenti anziché dedicarsi alle mansioni loro demandate si allontanavano in modo sistematico e consuetudinario dal luogo di lavoro per girovagare per le vie cittadine, recarsi in banca, fare la spesa o dedicarsi ad altre esigenze personali. L'assenza dagli uffici si protraeva anche per 4-5 ore su un turno di servizio della durata di 6 ore. In altri casi, in un contesto di generale complicità per attestare falsamente gli orari di servizio veniva asserito il mancato funzionamento dell'apparecchiatura marcatempo o semplicemente dichiarata la dimenticanza del budget. Oltre all'assenza ingiustificata e reiterata da posto di lavoro, l'attività d'indagine ha permesso di riscontrare anche l'inoperosità di buona parte dei dipendenti che in varie occasioni e per diverso tempo sono stati filmati e stazionare nei corridoi dello stabile invece di adempiere alle incombenze lavorative. All'esito dell'attività investigativa durata circa un anno, seguirà ora la quantificazione delle retribuzioni percepite indebitamente dai funzionari, la cui posizione sarà segnalata alla Corte dei Conti per il conseguente recupero.